Adesso è finalmente ufficiale, il 12 e 13 febbraio del 2023 si svolgeranno le elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia e per eleggerne il Presidente. L'appuntamento naturalmente riveste grande importanza imponendosi di fatto anche sulla scena della politica nazionale. Perché la Lombardia è di fatto uno Stato nello Stato per i suoi numeri imponenti e soprattutto dal punto di vista del peso economico che ha la Lombardia per l'intera Italia. Ma in queste elezioni, al di là della scelta che gli elettori dovranno compiere tra Attilio Fontana, Maiorino, Lamoratti, ovvero insomma tra il confermare il buon governo del centrodestra della regione Lombardia oppure scegliere la sinistra più sinistra del PD oppure ancora una signora che negli ultimi mesi ha sviluppato questo capriccio per il potere di regione Lombardia. Insomma, oltre a questa scelta, si giocherà anche un'altra importante partita che è quella dell'autonomia. Come sapete il Ministro Roberto Calderoli, che da poco è approdato al governo con la delega proprio sulle riforme e quindi anche sull'autonomia, sta correndo spedito per arrivare al tanto agoniato traguardo, ovvero l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione italiana, quello che prevede appunto il regionalismo differenziato. Ma cosa c'entrano le elezioni regionali in Lombardia con quello che sta accadendo al governo sul tema dell'autonomia? Beh, io nel fumo e nella nebbia delle pretestuose polemiche e accuse varie di egoismo mosse nei confronti del Nord, a me pare di intravedere un tentativo un po' furbo da parte di qualcuno. Qual è il tentativo? Il tentativo è quello di dire sì, facciamo l'autonomia, ma la facciamo insieme contestualmente alla riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale o semi-presidenziale. Niente da dire sulla riforma in sé che è condivisibile e sicuramente renderebbe l'Italia, la repubblica italiana più moderna. È una riforma inserita, come sapete, nel programma elettorale del centrodestra. D'altro canto, nessuno può eccepire la possibilità che le due riforme convivano e coesistano insieme. L'autonomia come una forma di federalismo applicato e il semi-presidenzialismo. Anzi, secondo qualcuno, probabilmente non potrebbe esistere una forma presidenziale senza l'adeguato contrappeso del federalismo. E, d'altro canto, sarebbe auspicabile una riforma in senso federalista dello Stato anche se si dovesse scegliere la forma del semi-presidenzialismo. Il problema dove sta? Beh, il problema sono i tempi. Perché una riforma costituzionale con l'iter aggravato che viene richiesto essendo una Costituzione italiana di tipo rigido e quindi maggioranze qualificate impegnerebbe naturalmente tutta la legislatura. Cinque anni. Recentemente, in Consiglio regionale, abbiamo approvato una mozione indirizzata proprio al Ministro Calderoli e l'obiettivo era quello di impegnare il Ministro a velocizzare l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione per la Lombardia ovvero di raggiungere l'agoniata autonomia che da troppo tempo in Lombardia aspettiamo dopo il referendum del 22 ottobre del 2017. E in quella sede, gli amici di Fratelli d'Italia hanno preteso l'inserimento nella mozione dell'impegno analogo per arrivare a una riforma presidenziale o semi-presidenziale dello Stato. Quindi siamo arrivati al punto. Le prossime elezioni regionali saranno di fatto anche un nuovo referendum sull'autonomia dopo quello dell'ottobre del 2017. Perché solo votando Lega e facendo uscire una Lega forte dalle urne del prossimo febbraio allora sì che arriverà un segnale chiaro, forte, netto e deciso al governo. I Lombardi vogliono l'autonomia e la vogliono adesso.